ciao a tutti e bentornati su the sims 4 vita nel ranch oggi siamo di nuovo qua nel ranch di alice sotto una bella tormenta di neve e anche se il natale è già passato vediamo un po di dare un po un'aria allegra questa nevicata proviamo a fare anche un bel pupazzo di neve vediamo un po alice senza guanti che cosa tirerà fuori da questo pupazzo ok mettiamoci il naso ma che caspita è questo alice come l'hai conciato vabbè lasciamo perdere veramente allora ritorniamo alla nostra blue royal girl che è in dolce attesa e come vedete la sua pancia è cresciuta molto quindi io spero non manchi molto alla nascita del nostro puledrino o puledrina chi lo sa nel frattempo lei dorme ma andiamo a vedere meglio ecco si è svegliata guardo la gravidanza non mi dice niente quindi non possiamo fare altro che attendere il papà generale invece qua che non si sa che cosa stia facendo sembra voglia fare amicizia con acqua ma non sembrano andare molto d'accordo lei è l'ultima arrivata e l'abbiamo adottata ok proviamo di nuovo a montare lei cambiamo abito ok e andiamo a a fare questa bella cavalcata nella neve perché mi piace molto lo scenario e perché voglio continuare ad addestrare questa cavalla voglio essere certa che questa cavalla non abbia problemi quindi per il momento si squadra ancora un po la testa ma mi sembra molto meglio di ieri penso che non avrà tutti questi problemi che sembrava avere come vi dicevo nella scorsa parte è aggressiva più con i cavalli che con le persone e niente quindi godiamoci questa nostra cavalcata ma che che va bene se vuoi fare bar racing dimmelo pure comunque lei pensavo di allenarla principalmente per la resistenza e blue royal girl per il temperamento che come sapete oltre a saltostacoli e all agility sono altre nuove discipline insomma che sono arrivate con the sims 4 horse ranch ok sarà meglio tornare al ranch non so la tormenta si sta facendo ancora più fitta ma ecco mi sembra che si stiano divertendo ok acqua sembra triste non so alice sta cercando di guardare dentro la tormenta comunque ecco mi sembra che insomma stiano nonostante ancora un po di tentennamenti da parte sua stiano creando un legame e un po mi dispiace perché speravo in magari un cavallo quasi selvaggio da dover tomare e invece lei è abbastanza brava ok perfetto qualche coccola prima di tornare alla scuderia e abbiamo fatto anche per oggi ok eccoci qua io tengo sempre monitorata la nostra blue royal la pancia se non sbaglio è cresciuta ancora non so mi sembra che sia più grande di quanto era prima e secondo i calcoli ci dovrebbero volere circa tre giorni di gioco e ormai ci dovremmo essere io lei la vedo sempre uguale non ha nessun sintomo agitazione niente di che adesso è andata a dormire e quindi non la dovremo soltanto aspettare e vedere cosa succede alice anche lei è andata a dormire anche se è mattina dovresti andare a letto di notte ma abbiamo cavalcato ok ragazzi iniziato il travaglio come non detto come non detto sono già passati tre giorni allora lei sta dormendo quindi non capisco il travaglio è iniziato lei sembra neanche essersene resa conto ora vediamo un po svegliamo alice vediamo un po che cosa fare si è svegliata vediamo un po si ok è a disagio e ok non dovrebbe mancare molto alla nascita del nostro puledrino o puledrina ora voglio vedere dove sta andando perché ok va dal papà del puledro a chiedere un po di conforto ma che carini che siete veramente siete proprio carini io adesso voglio vedere questo puledro quindi rassicura il cavallo in travaglio che c'è questa opzione la nostra sim può rassicurare il cavallo durante il parto e vediamo un po se questo cambierà la situazione ok comunque la vedo molto a disagio ormai ci dovremmo essere non andare fuori dalla stalla non avrei mica intenzione di partorire fuori sulla neve adesso è andata nel box di thunderbolt ok non sta ferma un secondo probabilmente non sa nemmeno lei cosa fare dove andare non lo so proviamo a rassicurarla nuovamente questa animazione è diversa da quella di prima probabilmente sta succedendo qualcosa vediamo un po vediamo un po ok adesso sta raspando a terra ok non riesco a capire non si è più mossa da prima vediamo un po se forse abbiamo oh eccolo qui l'orail gore appena dato alla luce una puledra perfetto è una femmina è una femmina adesso dovremmo andare a scegliere il nome allora ho trovato un nome visto che è nata sotto a una nevicata ho scelto per ora misty snow che vuol dire neve nebbiosa non so perché ma insomma mi piaceva eccolo qua finalmente la nostra puledrina ha ereditato giocosa dalla mamma probabilmente e mi piace il fatto che abbia ereditato la cliniera colorata quindi mezza bianca e mezza nera del padre però mi dispiace un po vedere che è praticamente tutta la mamma è vero che anche natura e cavalli prendono di più dalla mamma però ecco non lo so speravo in un mescolone un po più di entrambi ok le assegniamo già il box accanto a quello della mamma così se un domani deciderò di farla diventare adulta avrà già il suo box adesso vediamo che sta facendo i suoi primi passi ma sua mamma non la considera minimamente quindi ok vediamo un po che cosa fa guardate che carina che ha questa puledra guardate i suoi occhioni cioè veramente è tenerissima e iniziamo a interagire con la mamma ma non mi sembra che vadano molto d'accordo ok ci sta abbastanza probabile a volte capita e niente adesso però voglio fare una cosa scusatemi grazie a tutti mi scuso ma veramente non mi piaceva il fatto che non avesse nemmeno una macchia quindi i contenuti che ho usato le maschere per le macchie sono e le macchie per il viso sono tutti i contenuti che ho scaricato se volete vi lascio qua sotto nella descrizione il link per poterli scaricare e come vedete le ho fatto il mantello roano pezzato eccola qui la nostra misti guardate com'è carina che inciampa sulla neve adesso il suo mantello è molto più raro di prima perché non solo è pezzata ma è una roana pezzata quindi all'esatto mix fra il papà e la mamma se avete voglia di vedere altri video con lei o con i miei cavalli fatemelo sapere nei commenti spero vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ciao